Allora, rieccoci qua al laboratorio, i miei discepoli, ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi piccolo discorso, finalmente, per quanto riguarda di nuovo l'impostazione primaria, quindi come operare sul materiale come questo, visto che siete molti che mi fate domande, visto che c'è un video gratis sul mio sito per quanto riguarda l'impostazione primaria e soprattutto per avere un piccolo chiarimento su come intervenire in questo caso, perché sennò ricevo un sacco di foto da parte dei miei discepoli di piante come queste, ottimo, siamo sulla buona strada, avete fatto un bel acquisto, avete fatto un materiale come questo, perché è cortecciato, ha dinamicità molto femminile, un sacco di caratteri, non ha neanche taglioni sopra, quindi è bello conico, quindi il discorso della conicità, ragazzi, è importantissimo, ok? Però ho notato che molti di voi stanno iniziando a mettere filo, quindi a fare filature, a fare delle forzature esagerate, quindi a posizionare i rami, che sono soltanto rami di sacrificio, quindi qual è il difetto, qual è l'errore che fa il neofita? Adesso vi abbasso la pianta così la faccio vedere anche meglio magari. Il problema, ok, sono tutto basso, il problema è che la gente prova a lavorare con questi rami qua, ok? Questi qui, questi qua, questi, ragazzi, in questo caso, e mi dispiace per voi, per chi vi racconta un'altra cosa, non va assolutamente fatto quel tipo di lavoro lì, ma semplicemente va fatta una potatura aggressiva di rientro, anche a legno, ok? Perché? Perché abbiamo i rami che sono assolutamente troppo lunghi, quindi non ha senso andare a cercare di sistemarli, diciamo, ok? Quindi fare delle forzature, mettere, perché io vedo gente che mette la rafia su questi rami, ma perché devo piegarlo, devo riportarlo, devo... Ragazzi, prima di tutto non è un ginepro, quindi state tranquilli, quelle robe lì non vanno fatte su questo tipo di materiale. Secondo, ci può stare, fare un riporto di ramo, però per creare poi un palco che esce, ok? Si torna giù e si esce con un palco, soprattutto anche in questo ramo qua, ok? Abbiamo già il ramo pronto, qui sono delle gemme, partiremo per creare un palco che magari uscirà fino qua. Quindi, prima regola, è inutile concentrarsi e fissarsi su quello che abbiamo, perché molto spesso quello che abbiamo già sul nostro materiale, soprattutto sugli amadori, non è assolutamente lavorabile, quindi quattro tagli, track, track, si riparte da zero con nuovi rami che saranno più flessibili, più fini, più morbidi, per poi andare a filare e vediamo veramente l'impostazione primaria, ok? Quindi quello che vedete, ad esempio anche questo, questa roba qua sopra, ragazzi, non ci serve, soprattutto questa parte qui va assolutamente tagliata fino qui, ok? Si lascerà solo un piccolo moncone nel caso potesse fare qualche ramo nuovo. Consiglio che vi do su delle sughere come queste, allora vi dico subito, tranquilli, perché la pianta ricaccerà da tutte le parti, se la pianta sta bene concimata, con i prodotti che funzionano, ricaccerà da tutte le parti, quindi potete tranquillamente segare verso fine febbraio, inizio marzo, tutto, segate tutto, ok? Tagliate tutto, all'osso deve essere fatta la potatura, perché poi la pianta così sarà veramente stimolata a cacciare nuovi rami da dietro nelle gemme che ci sono. Se questa cosa vi spaventa, tagliate e lasciate due foglie per ogni ramo, ok? Ad esempio qua sopra, questa è tutta una porzione di pianta che noi non ci serve, io taglierei fino qua, anzi va tagliato assolutamente fino qui, anche questo ramo che va sopra, che gira, che va all'indietro addirittura, questo va tagliato qua, ok? Così fa gemme qua. Se avete paura, pensate che la pianta non possa rispondere, a quel punto fate una potatura, stando più larghi, lasciando soltanto delle due foglie, come vi ho detto. Questo perché avrete tiraggio di linfa 100%, così il ramo non vi secca, ma soprattutto, cioè soprattutto però, dovrete lavorare poi dopo un po' per step, ok? Si può fare questo lavoro, cioè se avete dei dubbi, tagliate soltanto, lasciate sempre del verde, così piano piano la pianta vi farà delle gemme, e allora ok, anno dopo anno andate sempre ad accorciare, però in questo caso qui, se conoscete il materiale, la sughera è una pianta bastarda, che sta sempre bene, che funziona molto bene, se gli date l'acqua, il concime, tranquilli, fine febbraio potete sagare tutto, vi farà un sacco di roba sui rami. Perché è importante sta cosa? Perché poi creiamo tutti quei rami che ci servono all'impostazione primaria, perché se no, ve lo ripeto, non potete fare questo step che è molto importante, ok ragazzi? Quindi inutile focalizzarsi su quello che c'è, bisogna un pochettino sviluppare quella visione, che vi porterà ad avere le idee più chiare, e quindi a mettere mano poi per avere dei risultati, perché se no, continuate, nei vari corsi, fa mettere filo questi rami qua, ma questo ramo qui ragazzi, cioè guardate, questo qui, non serve a niente, tocca tagliare, quindi quando vi insegnano a mettere il filo, fai così, fermi, molto spesso, una bella potatura di rientro, e metterà nelle condizioni da avere della vegetazione pronta l'anno dopo, e quindi il salto di qualità è esagerato, anche prima dell'anno dopo. Qui c'è nel prossimo video, spero di essere stato chiaro, un'ultima cosa, c'è il video corso, non mandatemi foto come devo impostare la pianta, c'è il video corso gratis ragazzi, da whatsapp è impossibile, ok? È inutile, ok? Cioè nel prossimo video, questo veramente è un bel materiale, ogni tanto mi capita qualcosa, ma questo mi piace perché, a parte le sugheri in sé che fanno veramente questa corteccia grossa, e poi hanno con la forza come i lecci sono, ok? Quindi vi partono tutti i rami anche a legno, tanta roba, per rientrare è proprio l'indispensabile, ok? Quindi non focalizzatevi su piantino da vivaio, zelcove, serice, quelle robe lì, perché tanto non tirerete mai fuori niente, ok? Sono nel prossimo video, è a bomba, mi raccomando, concimate a bomba, perché sennò è inutile, la pianta non si muove, ok? Ciao a tutti, mettete le piante nella condizione giusta per vegetare bene. Grazie a tutti.